Le persone invidiose sono pericolose. Dicono che chi ti fa del male ti rende forte, chi ti critica ti rende importante, e chi ti invidia ti rende grande. L'invidioso non desidera quello che hai tu. Ciò che desidera è che tu non lo abbia. L'invidioso non vuole la tua felicità, vuole semplicemente che tu sia infelice. Nella società di oggi ci sono persone che non riescono a comprendere il successo degli altri, e lo sminuiscono sempre. L'invidia è l'omaggio che la mediocrità rende al talento. L'invidioso ti guarda sempre dall'alto al basso alla ricerca di qualche difetto. Se lo trova, commenta. Se non lo trova, lo inventa. Se le cose andranno bene, ti invidieranno, diranno che hai avuto fortuna, che hai imbrogliato, o che te l'hanno regalato. E se le cose andranno male, diranno che sei uno sciocco, parleranno di come avresti dovuto fare, anche se loro stessi non ci hanno mai nemmeno provato. La maggior parte dei tuoi amici vuole che tu stia bene, però, mai meglio di loro. Non c'è niente di più pericoloso che essere felici davanti a un invidioso. L'invidioso non può sopportare di vedere il fuoco dentro di te, e, per questo, dipende da te mantenerlo acceso. Non importa cosa sta accadendo intorno a te. Tu continua a lavorare, continua ad andare avanti, ma non esprimere mai la tua felicità ad alta voce, perché l'invidia, ha un sonno leggero. Quindi è meglio che ti impegni in silenzio, lasciando che sia il tuo successo a fare tutto il rumore. Di solito, dove c'è un grande traguardo, c'è sempre una persona che non ha ascoltato gli invidiosi e i negativi, beh ed ha reso tutto possibile. Grazie a tutti.